benvenuti alla rondine pisa casa vacanze bnb ecco ora vi faccio una breve panoramica sulla casa che è un bed and breakfast ma è anche una casa vacanze qui è l'ingresso con il giardino qua volendo si possono fare anche delle grigliate al barbecue questa è l'entrata e entriamo questo ingresso bnb qui abbiamo volendo come dicevo possiamo anche affittare o in casa vacanze che abbiamo la cucina attrezzata abbiamo un po di tutto di qua abbiamo una lavanderia e un altro bagno di servizio il bnb la rondine e anche una un affitto temporaneo e qui abbiamo sala ingresso e qui montiamo sulle scale non è molto grande ma come vedete offre tutti i servizi ora andiamo qua nella camera mela e abbiamo il camera mela con il bagno poi abbiamo la camera limone con il bagno qui abbiamo la camera arancio con tre letti e il relativo bagno qua e abbiamo in ultimo il bagno privato della limone che è nel corridoio questo è la rondine pisa.it che è anche un appartamento a lucca affitto vicino alle mura ciao a tutti